Musica Sarà perché siamo al cinema, ma mi viene a mente una frase di Nanni Moretti che ci invita a considerare che le parole sono importanti. Allora partirei esattamente dalla parola che è stata scelta per questa settima edizione del TED di Padova, che è identità. Allora, identità viene da idem, significa lo stesso, la stessa cosa. Se volete trovarci una parentela immediata, pensate a identico. Allora l'identità è delle persone e anche dei luoghi. E le identità possono mischiarsi. E noi possiamo essere figli, in qualche misura figli, dei luoghi che frequentiamo o nei quali siamo nati. Vedremo nel corso di questo breve, di questa breve riflessione che faremo insieme, la faremo insieme perché cercherò di sollecitare una riflessione in voi rispetto al vostro vissuto, rispetto alla vostra storia, al luogo in cui siete nati, al luogo che avete maggiormente vissuto come impronta. Guardate che il tema del codice genetico della città vale per le tre che vi proporrò, ma in generale vale per i luoghi che abitiamo. Quindi parleremo di Trieste, di Venezia e di Padova, ma potremmo parlare di Salisburgo, o potremmo parlare di Parigi, o di Londra e via così dicendo. E dunque guardiamo al tratto identitario quel che fa peculiare quel luogo. Iniziamo partendo da una città di fresca fondazione, che è una caratteristica del tutto atipica in Italia. Questa città di fresca fondazione è Trieste. Trieste nasce intorno alla metà del Settecento, ma si forma veramente lungo l'Ottocento. Questo è un portone e questo qui è un altro portone. Incontreremo tre porte nel corso di questa traiettoria. Allora, in questo portone a due battenti troviamo i due numi tutelari di Trieste, i due simboli, quel che caratterizza la storia e il destino di quella città. Da una parte c'è Mercurio, dall'altra parte c'è Nettuno. All'incontro tra i due, Dio del commercio l'uno, Dio dei mari l'altro, ci sta una città che nasce come porto, come porto dell'impero. E tutto deve al fatto di essere stata scelta dall'impero sburgico come porto di quell'impero. Senza il porto quella città sarebbe rimasta un borgo, un borgo di salinari e di pescatori. Nulla più di questo. Dunque, l'identità di Trieste è città-porto. Venezia. Venezia è una città con una densità di storia, di cultura, di deposito, talmente ricco che potremmo perderci. Allora, dov'è l'identità? Riconosciuta nel mondo, ed è un fattore simbolico, di Venezia. Vedete? Questa è l'altra porta, la seconda. Questa è la porta di accesso privilegiata, lungo mille anni di storia, di Venezia. Noi ci entriamo attraverso il ponte traslagunare, che è stato costruito nel 1848. Ma i cortei regali degli ambasciatori, degli alti prelati, arrivavano in bacino di San Marco e dovevano transitare attraverso i due stipiti della porta, che sono le colonne di Piazzetta San Marco. E allora, da una parte, a lato sinistro, ci sta San Teodoro, il primo patrono della città. E dall'altra, vediamo qui in questa inquadratura, il leone di San Marco. Il leone di San Marco è il sigillo mondiale di Venezia, riconosciuto ovunque. Quindi, la dimensione identitaria di Venezia è la sua internazionalità, il suo essere riconoscibile agli occhi del mondo. Veniamo a Padova. Anche qui c'è un tema di porte. Questo è il caffè Pedrocchi, che, nello scritto di Stendhal, siamo intorno al 1830, viene definito come il più bel caffè d'Europa. E, fateci caso, è vero. È più sontuoso, più ricco, ha un progetto più pieno di qualsiasi caffè in Europa. Di quelli parigini, come di quelli viennesi, come di quelli londinesi. Ma noi, noi padovani, lo definiamo il caffè senza porte. Così come, diciamo che questa è la Basilica del Santo senza nome e questo è il prato senza erba. Questo è un punto sul quale occorre riflettere. Perché se Padova si definisce per sottrazione, evidentemente manca di una sufficiente riflessione, di una sufficiente consapevolezza di sé. E possiamo dire in massima serenità che mai Giotto, mai Donatello sarebbero transitati per Padova se Padova non fosse stata caratterizzata antecedentemente a loro dall'insediamento dell'università, che quest'anno compie otto secoli, infatti. Ma senza l'università non ci sarebbero state le condizioni per generare ricchezza, per attivare una vita culturale talmente intensa, talmente dinamica, da attirare due artisti sommi, e ho portato due esempi, ma ne possiamo portare a decine, come per l'appunto Giotto e Donatello. L'università è la calamita che attira a Padova Galileo Galilei, che dice di aver trascorso a Padova gli 18 migliori anni della nostra stagione, ossia della sua vita intera, perché a Padova aveva trovato le condizioni per esercitare in libertà la scienza, per intraprendere un'avventura culturale che altrimenti in altre parti d'Italia ed Europa più in generale gli sarebbero state precluse. Ma se andiamo a guardare l'albo degli scritti, degli studenti o dei docenti, ci troviamo Copernico, ci troviamo anche due che suonavano la tromba, uno a suo modo e l'altro a suo modo ancora, e c'è Eustachio, quello delle trombe, e Falloppio, altre trombe. Intendo dire che nelle sale dell'università è transitato un fiume di cultura e di protagonisti della cultura mondiale che hanno reso ricca e caratterizzata l'identità di Padova. Veniamo ai giorni nostri. Possiamo pensare davvero che Padova potrebbe candidarsi a essere sede dell'Agenzia Europea del Biomedical se non avesse questi otto secoli di storia alle spalle? Potremmo immaginare che si candidasse a attrezzare un ospedale che richiederà un investimento di un miliardo di euro, mai contato, se non ci fosse questo lungo percorso, questo lungo tragitto? E noi che stiamo vivendo questo tempo così sfidante, e mi riferisco naturalmente al Covid, senza avere sperimentato l'importanza delle competenze plurime, quindi quelle ingegneristiche, così come quelle della scienza medica, così come quelle della statistica, sperimentate non tanto tempo fa, potremmo immaginare di avere un cruscotto più attrezzato, più forte, più solido, guardate che non lo stiamo sostenendo noi, ci è stato riconosciuto mondialmente, basta andare a guardare la rassegna stampa di quest'ultimo anno. Allora, fondamentale aver preso per mano il bandolo della matassa, perché altrimenti rimane molto intricata quella padovana, e il bandolo della matassa è uno, l'università, lì c'è il codice genetico. Sei tu. Grazie a tutti.